Comf Cooperative, che è la maggiore associazione di rappresentanza delle cooperative nel nostro Paese, ha aderito con convinzione e con entusiasmo all'iniziativa di Cascina Triulsa all'interno dell'Expo Internazionale di Milano. Ha ritenuto che quella fosse la sede delle imprese cooperative. Pochi sanno che l'impresa cooperative è l'impresa più presente nel mondo e che i soci delle cooperative nel mondo sono oltre 100 milioni. Dei 154 Paesi che partecipano all'Expo ci sono sicuramente una piccola rappresentanza dei Paesi ricchi, dei Paesi cosiddetti sviluppati, dei Paesi nei quali l'economia è già un'economia che ha avuto grande crescita, ma ci sono la maggioranza dei Paesi che invece sono portatori di un'esigenza che è quella di sviluppare nuova economia. Noi siamo il modello di impresa che sviluppa un'economia solidale, un'economia protesa alla distribuzione della ricchezza, al mantenimento della ricchezza sui territori, allo sviluppo delle comunità e quindi abbiamo ritenuto che Cascina Triulsa fosse il momento nel quale poter rappresentare al meglio i valori delle imprese cooperative, la solidarietà, la fiducia, la condivisione e la partecipazione dei cittadini alla soluzione dei loro problemi al raggiungimento della risposta alle loro esigenze.